Il montaggio della B-Mobile è molto semplice. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono le due camere MAPIR che abbiamo già estratto dalle rispettive custodie, due fascette, due raccetti, la nostra base è B-Mobile e il drone Phantom 3 Professional. Ricordiamo che fascette e raccetti sono già in dotazione con le camere MAPIR. Passiamo adesso al montaggio delle MAPIR sulla nostra B-Mobile. Per prima cosa inseriamo le fascette. Dopodiché inseriamo le due camere in posizione invertita l'una rispetto all'altra. Dove c'è front, dove inseriremo la camera frontalmente. Possiamo quindi iniziare più bene con la fascetta. Dall'altro lato la inseriremo nel verso opposto. E chiudiamo con la fascetta. Inseriamo adesso la nostra B-Mobile all'interno del nostro Phantom 3. Per assicurare la B-Mobile al Phantom 3 è possibile utilizzare le fascette di dotazione con le camere MAPIR oppure in alternative più economiche utilizzare dei comuni glacetti metallici. Siamo adesso pronti al decollo. Siamo adesso.